Bisogna agire come dei femmini. Tecnica, passione, poesia. Super soddisfazione. Questo è il modo di intendere la pesca di Boris Salmikov e i suoi compagni di avventura. La mia vita è praticamente perfetta. Perché la pesca è nell'anima. Soul Fishing seconda stagione ogni domenica dalle 21 su Pesca, canale 236. La mia vita è la mia vita è la mia vita. Di me, io sono un po' merito. Iniziamo un po' merito.